Rinnovato nel look e nelle funzioni, è l'infopoint turistico di Biceglie, con sede nella centralissima via Tuputi, che questa mattina ha riaperto i battenti dopo una chiusura che, salvo qualche giornata di attività occasionale, durava dal gennaio del 2017. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte la responsabile dell'Agenzia Obiettivo Turismo, Marcella Sasso, e il sindaco, Angela Antonio Angarano. Sì, le novità rispetto agli anni passati sono appunto questo potenziamento del servizio di informazioni turistiche. Grazie al contributo da parte della Regione attraverso l'Agenzia Puglia Promozione, ripartiamo con grande entusiasmo. Proprio in linea con gli standard richiesti dalla Regione Puglia, abbiamo rivisto le nostre divise, abbiamo anche in termini di staff, abbiamo potenziato lo staff a servizio dell'Infopoint, con personale qualificato che parla anche lingue straniere, tedesco, francese, inglese principalmente, e poi grazie ai nostri badge identificativi ci sarà un rapporto più vicino con l'utenza turistica. A rendere possibile la riapertura e il potenziamento dell'Infopoint è stato un finanziamento regionale di 20.000 euro arrivato a inizio giugno. Si tratta del primo passo compiuto dalla nuova amministrazione per rendere Biceglie più fruibile ai turisti, accogliendo nel miglior modo possibile coloro che si riverseranno in città durante il mese di agosto. Se Biceglie deve essere una città turistica, deve anche dimostrare di avere le infrastrutture e tutte le organizzazioni per poter accogliere i turisti. Ovviamente il primo passo è quello di riaprire il più presto possibile l'Infopoint, di fare informazioni ai turisti. Adesso provvederemo pure all'apertura dei musei, stiamo effettuando una riqualificazione di tutto il centro storico, già la città è più pulita e il centro storico sta diventando più accogliente, con la speranza che i turisti quando arriveranno e quando gireranno tra queste belle strade potranno apprezzare ancora di più le bellezze che questa città ha da offrire. L'Infopoint turistico resterà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23 per le informazioni ai turisti, svolgendo anche attività di animazione on-site e divulgando nuovo materiale promozionale sulla città.